Buonasera e bentornati in diretta per primo cittadino come annunciato poco fa è tornato nei nostri studi il sindaco di Urbino Maurizio Gambini al quale do il benvenuto. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Ci sono delle criticità anche molto importanti ma sono criticità che purtroppo riscontriamo da molto tempo. Speriamo che questo nuovo piano sanitario che proprio dopo domani l'assessore insieme al presidente Acquaroli verrà a spiegarlo ai sindaci perché chiaramente aspettiamo da tempo questa riforma sanitaria. È stata fatta la scelta a fine anno della soppressione di Marche Nord, l'unificazione di queste due realtà con Asur e adesso aspettiamo i risultati. Ovviamente io do il tempo di lavorare anche se le criticità veramente ci sono. Ci sono anche criticità legate proprio alla fusione di queste due entità che non sono sicuramente una cosa facile da gestire. Quindi ci aspettiamo delle risposte proprio su come verrà gestita la sanità. Guardando al nostro ospedale di Urbino che è un riferimento per tutto il territorio dell'entroterra ovviamente ci aspettiamo molto da questa amministrazione regionale. Questo è quello che ho chiesto al presidente, all'assessore Salta Martini perché è veramente troppo tempo che abbiamo queste criticità. La criticità che purtroppo riscontriamo anche sugli altri ospedali purtroppo. E che riguardano anche ad esempio una carenza di medici? La carenza di medici questa ormai è cronica ma appunto adesso gestire i tre ospedali principali, quattro insieme a Pergola con tutti i medici che serviranno non è sicuramente facilissimo. Una gestione unica può avere, sicuramente avrà dei miglioramenti sotto certi aspetti ma chiaramente la partenza non sarà facile come anche fra l'altro si sta dimostrando anche se ancora non siamo sicuramente entrati nel pieno della gestione di questo nuovo ente che riguarda differenza delle altre province. Per noi è stata molto più critica perché ovviamente la soppressione di Marche Nord ha comportato delle modifiche sostanziali anche nei rapporti fra i medici, gli infermieri, fra la gestione, quindi diciamo il direttore generale che è ad Interim. Quindi chiaramente aspettiamo la definizione per poter partire con, chiaramente questa è la speranza di tutti noi sindaci, me per primo, ma ho chiesto anche oggi proprio al presidente Paolini, che è presidente della conferenza dei sindaci, di convocarla subito dopo questo primo approccio con l'assessore per quello che ci spiegherà ma per discutere con tutti i sindaci provinciali di questo nuovo piano sanitario per chiedere chiaramente definitivamente una gestione più forte, più decisa per risolvere le problematiche che chiaramente la critica la fa chi è governato prima, quelli che stanno governando in questo momento, però chiaramente c'è bisogno non di fare politica ma di persone che siano in grado di gestire queste tematiche che sono complesse, non nelle Marche, non a Pesorurbino ma in tutto il nostro paese purtroppo. Questa è la paura diciamo di tutti noi, che è una criticità che non è solo a livello locale ma criticità diffusa su tutto il nostro paese. E intanto è stata avviata la progettazione per la nuova palazzina delle emergenze, c'è stato un sopralluogo anche nei giorni scorsi, lo stesso del suo assessore Foschi, Baldelli? Sì, devo dire che appunto la velocità con la quale si sta intervenendo a Urbino come su tutti gli altri luoghi del territorio, della nostra regione, devo dire che ho riscontrato nell'assessore Baldelli, nel dirigente, una velocità abbastanza buona per riuscire ad avere queste strutture, diciamo, moderne per dare anche un servizio di qualità dove ovviamente poi ci servono i contenuti, perché il contenitore sì, ma poi ci vogliono i contenuti, è quello che chiederemo dopodomani al Presidente e all'assessore regionale. Parliamo adesso di lavori pubblici, possiamo dire che il 2023 sarà un anno chiave per questo settore, stiamo parlando di investimenti complessivi per circa 43 milioni di euro, di cui finanziati a bilancio comunale 2 milioni e 300 mila euro circa, la differenza 40 milioni e 300 mila ottenuti dai bandi. Adesso andremo un po' a snocciolare tutti i vari interventi, le scadenze però sono tante e pressanti, sentiamo parlare anche a livello nazionale. Anche in questi giorni del PNRR e delle tempistiche previste, riuscirete a portare a termine i progetti? Io devo dire che sono molto preoccupato, ma non solo per la città di Urbino, sono preoccupato per il nostro Paese, per gli impegni che si sono presi con l'Europa, perché sicuramente questo dimostra quanto in passato quelli che oggi criticano il governo Meloni, il governo di centrodestra, ma anche in questo caso devo dire che le risorse che l'Italia ha chiesto all'Europa, a mio giudizio, sono troppe, tantissime. Gli altri Paesi hanno chiesto solo quelli a fondo perduto e non quelli a debito. Noi ci siamo allargati molto, non sapendo e non conoscendo probabilmente, allora c'era il governo Conte, che io dico i danni che ha fatto sono tantissimi, basta guardare il 110, se uno fa la considerazione sul 110 e vediamo le risorse che sono state chieste a livello europeo, sono di qualcuno che amministrativamente, non è una questione politica, questo io ci tengo a dirlo. In questo momento storico noi non abbiamo bisogno di fare politica e di cercare dall'altra parte il nemico, perché purtroppo sta succedendo questo, cosa che non ci serve in questo momento storico, ci servono amministratori che siano in grado di mettere in campo le risorse che abbiamo, ma senza fare danni, perché il rischio, secondo me, e torno alla città di Urbino, dove abbiamo tantissime risorse da mettere in campo, ne avevamo già prima del PNRR, perché questi progetti dei quali lei ha parlato, che ha accennato sulle quantità a livello economico, sono progetti che provengono anche da risorse nazionali che poi sono stati trasformati in PNRR, che chiaramente proprio nella trasformazione stanno creando delle difficoltà, perché sono partiti con delle regole e sono finiti nel PNRR, parliamo di diversi milioni di euro, che adesso hanno regole diverse, da come sono stati impostati, questo mette in difficoltà gli uffici comunali, noi abbiamo il nostro segretario, che è una visione complessiva, perché è anche segretario della provincia e in altri comuni del territorio, ci dice Urbino, tutto sommato non è messa male, perché altri comuni veramente sono messi in grande difficoltà, perché molti comuni non hanno i tecnici, ecco, questo per dire che io sono fortemente preoccupato di riuscire a spendere le risorse che abbiamo in campo, basta pensare questo, che noi normalmente tutti gli anni a Urbino spendevamo per gli investimenti circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni, avere 37 milioni che dovremmo spendere quest'anno, io credo che nessuna entità, né azienda né ente pubblico è in grado di gestirle, perché è come dire un'azienda che fattura 10 milioni di euro che in un anno devi investirne 20, cioè non è proprio realizzabile e quindi cerchiamo, per fortuna, diciamo, ci hanno detto che la partenza può essere quest'anno a pezzi, quindi i prossimi anni probabilmente possiamo allungare nel 2024-2025, ma il problema è per i fondi che devono arrivare, chi presenterà i progetti per i nuovi fondi, perché dei 210 milioni di euro ancora ne sono stati assegnati appunto 40, io credo che, al di là della capacità di questo governo, credo che riuscire a fare i bandi, a presentare i bandi e realizzare le opere entro il 2026 è impossibile. Se l'Europa non ci dà almeno 10 anni di tempo per realizzare queste opere, questi fondi non saranno spesi e non sarà la colpa di questo o di un altro governo possibile, la colpa è chi ha chiesto all'inizio tante risorse, sapendo che aveva una struttura nazionale che non è in grado, a mio avviso, magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, di mettere in campo tutte queste risorse. So che la Regia è pronta con le prime foto, ma vorrei intanto cominciare a leggere qualche messaggio. Oggi, ad esempio, ci ha scritto una persona che risiede a Urbino 2 e ci ha chiesto appunto di avanzarle queste domande. Finora vedo, dopo circa 30 anni dalla realizzazione del quartiere, solo costruito un marciapiede, il resto è in totale degrado, immondizia agli argini delle vie, conferimento dei rifiuti quasi inesistenti. Mi sembra, proseguito, che la fine della riqualificazione generale del quartiere fosse prevista entro il 2024, ma quasi metà del 2023 ancora deve iniziare. Quindi, quartiere di Urbino 2, quali progetti ci sono? Allora, innanzitutto non parliamo, e qui usciamo dal PNRR, perché questi sono fondi nazionali, regionali, e quindi noi stiamo mettendoli in campo e non è vero che facciamo solo un marciapiede, perché il marciapiede è già stato realizzato, ma c'è tutto un parco di strutture sportive, di parchi giochi che è in realizzazione. La riqualificazione della palazzina riguarda appunto ERAP, che ha acquisito gli appartamenti, e vi assicuro che non è stato facile, perché purtroppo tutti eravamo bravi a dire prendiamo, buttiamo giù tutto, ma gli appartamenti sono di privati, quindi c'è stato tutto un lavoro di acquisizione di questi appartamenti, che quindi capite bene che non è facile. ERAP, per fortuna, ha già appaltato la prima palazzina, tre anni fa è fallita la ditta, quindi è dovuto fermarsi, ha dovuto rifare il bando, adesso ha una ditta nuova a cui ha segnato i lavori, quindi ecco, c'è tutto un iter molto lungo, però ecco, se non finiremo nel 2024, come ha detto questo vostro telespettatore, sicuramente nel 2024 saremo a buon punto, e questo credo che sia un ottimo risultato, però la riqualificazione di quel quartiere con i progetti che ci sono in campo, sicuramente, io ho detto questo, che deve diventare dal quartiere più degradato delle Marche, il quartiere più bello delle Marche, questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Tra poco torno a leggere i vostri messaggi, già ce ne sono diversi, però cominciamo a vedere qualche slide, ecco, cominciamo proprio da qui, Sindaco. Facciamo vedere anche le altre. Quindi partiamo da Castaccolo, con l'elisuperficie, giusto Sindaco? Eccola qua. Anche, sì. Sì, sicuramente questo è una riqualificazione, quindi la costruzione dei camminamenti, quelli che a Urbino non esistevano proprio, e chiaramente non solo qui, questo è uno di quelli che stiamo realizzando in questo momento, l'elisuperficie che sarà completata a brevissimo con l'impianto di illuminazione che permetterà l'atterraggio anche di notte con intemperie o con il maltempo. Quindi ecco, su questa linea stiamo procedendo, e questo è una parte del camminamento che andrà verso Pallino e con il collegamento verso la Piantata, che è un quartiere molto popoloso, che ha diritto di avere anche queste infrastrutture per la mobilità pedonale, perché è ciclabile. Questo è quello che stiamo facendo e stiamo realizzando in tutto il territorio del Comune di Urbino, tante altre opere sono o partite o stanno per partire in questo momento. E parliamo di fondi non PNRR, qui stiamo parlando ancora di fondi comunali o comunque di bandi regionali o nazionali. Ci sono però appunto anche dei progetti in cofinanzamento con il GALP, siamo alla pista ciclabile della Croccia Le Cesane, il campo per il golf che dovrebbe partire a breve. Sì, abbiamo realizzato la prima parte del bike park, che questo vediamo, la foto è del campo prova da golf, che è stato già appaltato. Sono stati già acquisiti tutti i terreni per la realizzazione, anche questa è stata un'operazione non facilissima, perché ovviamente il mio obiettivo è quello di non fare spropri, ma avere un accordo con i proprietari dei terreni, perché lasciare le cause o i contenziosi per i miei futuri amministratori della nostra città non è il mio obiettivo, è quello delle cose di farle, definirle e portarle a termine. Invece è legato al bando sport e periferie il progetto sulla pista d'atletica allo stadio? Sì, c'è tutta la riqualificazione appunto della pista d'atletica, ma anche altri lavori di riqualificazione dello stadio, delle tribune, del bar che è stato già aperto con la riqualificazione già avvenuta da parte della società sportiva che lo gestisce, con la nostra collaborazione per i contributi che abbiamo concesso, ma soprattutto c'è tutta un'area che si sta riqualificando, perché sono previsti anche qui i camminamenti, una viabilità nuova per la circolazione presso il campo sportivo e il palazzetto e l'Università, gli accordi con l'Università che sta già realizzando le nuove aule nell'area del Petriccio e il progetto della Buca 1, Buca 2 per le palestre nuove dell'ISAF che sono importantissime perché è una delle facoltà che ovviamente a noi teniamo moltissimo come città perché porta tanti studenti nella nostra Università. Poi continueremo a parlare anche appunto del mondo scolastico, vado avanti con una domanda per lei. È vergognoso, ci dicono, sono passati circa dieci anni dall'inizio dei lavori nel centro commerciale Santa Lucia, non siete riusciti a smantellare quell'orribile gru che troneggia sullo skyline di Urbino. Quanti anni dovremo ancora attendere? Io spero non più tanto perché ovviamente la ditta che ha installato la gru, l'ho detto molte volte ma chiaramente lo devo ripetere, non essendo finito il cantiere essendoci stati il terremoto con le deroghe per la fine dei lavori, la pandemia con la fine con tutte le deroghe che normalmente sono state concesse per motivi extra amministrazione nostra però ecco con la proprietà abbiamo chiesto di smontarla perché ormai non è più possibile mantenerla però ecco spesso i cittadini si scordano di quello che è successo negli ultimi anni con prima il terremoto poi la pandemia che ha dato le deroghe diciamo sovracomunali a chi aveva i cantieri in esse. Buonasera, volevo chiedere al sindaco, quando i ragazzi dell'ITIS che provengono da Fano potranno tornare a prendere l'autobus al piazzale superiore senza dover fare corse in mezzo al fango fino al parcheggio del bocciodromo visto che l'emergenza covid è finita? Ma l'obiettivo è quello di il parcheggio di questo istituto è quello definitivo non è che si tornerà altrove perché ovviamente quel parcheggio è un parcheggio più sicuro per far accedere i ragazzi all'istituto quindi ecco l'obiettivo è questo non è non è stata la questione covid che ci ha fatto decidere di dividere i pullman una parte in quel piazzale. Ci chiedono, si sta parlando di questa fusione dei comuni di Urbino e Sasso Corvaro a Uditori, cosa c'è di vero in questa notizia? Grazie per la risposta, ci scrive Pasquale di Sasso Corvaro. Ma non c'è di vero che il sindaco di Sasso Corvaro, Anpassan, lancia questa ipotesi mi fa piacere questa domanda perché noi abbiamo dato chiaramente sulla considerazione del sindaco di Sasso Corvaro, del vice sindaco al quale mi sono incontrato anche pochi giorni fa che hanno già da sei mesi lanciato quest'ipotesi quindi ecco mi è dispiaciuto che oggi sia uscito sulla stampa il fatto che Urbino si è proposto a Sasso Corvaro che Sasso Corvaro invece vuole attendere è il contrario e Sasso Corvaro che giustamente con anche uno slancio che magari è meglio evitare se non c'era la disponibilità di andare avanti subito perché le cose o si fanno o non si fanno noi non ci siamo mai proposti, noi abbiamo avuto la proposta allora di Tavoleto quando poi i cittadini di Tavoleto non hanno votato a favore, Urbino i nostri cittadini hanno votato l'83% a favore quindi abbiamo anche in quel caso accolto una richiesta, c'è stata anche la discussione su Petriano che col sindaco da prima delle elezioni passate del 2019 dice nel prossimo legislatura facciamo la fusione ma io non mi sono mai permesso di dire facciamo la fusione con questa o con quest'altra città perché so benissimo che se lo dice Urbino vuol dire che vuol fagogitare qualcuno noi non abbiamo necessità di fare fusioni se non per arricchire i territori che eventualmente si mettono insieme perché per motivi diversi, qualcuno perché siamo sotto i 15.000 sopra non c'è nessuna differenza tra essere a 14, a 15, a 16 chiaramente aumentando il territorio non è che si aumenta la popolazione la popolazione rimane sempre quella, il fatto di essere a 18 o a 13 o a 14 non è in cambio è chiaro che il problema dello spopolamento è un problema per tutte le città dell'entroterra però non è questo il motivo che deve spingerci, è una necessità di Urbino di fare la fusione ma ci sarebbero dei vantaggi concreti effettivamente? ma i vantaggi concreti sono quelli che conosciamo un'amministrazione unica sarebbe un risparmio di gestione delle amministrazioni di 6-700 mila euro all'anno complessivi c'è ancora questo contributo che per Urbino potrebbe essere 2 milioni di euro all'anno per Urbino e la città che si fonde c'è un fatto storico con Sasso Corvaro che secondo me è un elemento di rimettere insieme un territorio che può esprimere veramente tanto insieme può assumere una forza che può aiutare tutto l'entroterra ad essere più incisivo però non è che Urbino, e questo mi dispiace, voglio chiarirlo non è Urbino che ha chiesto a Sasso Corvaro di fondersi noi siamo disponibili, sicuramente mi sembra una fusione più adeguata con Sasso Corvaro magari di altri comuni perché il Sasso Corvaro e l'Urbino hanno una storia insieme quindi non vogliamo né forzare la mano su qualcuno siamo disponibili a discuterne e con il sindaco ne stiamo discutendo ma semplicemente questo, non è che noi vogliamo fare la fusione ci fa piacere farla però ci farebbe piacere procedere in questa direzione ma è una richiesta che viene da Sasso Corvaro che a me ha fatto anche un po', devo dire, mi ha sorpreso un po' perché quando il sindaco di Sasso Corvaro mi ha chiesto che sarebbe un'ipotesi io non pensavo neanche che loro ci potessero pensare quindi ecco ci tengo perché è come se uno chiede la mano a una signora e poi gli viene detto di no, non è così io ho detto sono disponibile perché c'è stata una richiesta da parte di questa città che io stimo molto, stimo gli amministratori, stimo i cittadini di quel territorio perché sono cittadini laboriosi e quindi chiaramente insieme ad Urbino sarebbe una trasformazione epocale che chiaramente darebbe più a Sasso Corvaro che Urbino perché Urbino comunque è capoluogo di provincia, Urbino è patrimonio dell'umanità e chiaramente insieme potremo accrescere il valore veramente del nostro territorio Ci dobbiamo fermare per qualche istante e torniamo in diretta tra poco Bentornati in diretta, abbiamo ancora diversi argomenti da poter trattare con il sindaco grazie anche per i messaggi che ci state inviando, tra poco torniamo a leggerli partirei sindaco, diciamo prima di questo PNRR, di queste risorse importanti con le slide che riguardano l'asilo un intervento, eccolo qua, appunto importante Sì, è un nuovo asilo, è un nuovo asilo che abbiamo progettato e dovranno partire i lavori prestissimo perché l'inizio lavori deve essere assegnato entro la fine di maggio, quindi nell'estate sarà in costruzione l'asilo di nuova concessione, come si vede dalle foto ma vorrei progliere l'occasione per dire agli urbinati che purtroppo la città di Urbino nei prossimi anni da quest'anno in poi sarà un cantiere unico quindi ci saranno anche dei disagi, a parte l'asilo che non creerà disagi però i lavori al centro storico, i lavori alla data poi ne parleremo, però ecco abbiamo sì anche delle foto che riguardano la data questo purtroppo comporterà molti disagi perché appunto i camminamenti, le strade nuove quindi ci saranno dei disagi qui vediamo chiaramente una struttura della data che è stata completata, i lavori del primo piano è veramente uno spettacolo questo spazio molto vivibile che stiamo anche allestendo ma purtroppo anche qui dovranno ripartire i lavori ancora per 1.800.000 euro in questo caso finanziati dal PNRR per completare i due piani qui parliamo di oltre 2.000 metri quadri di superfici che possono essere utili per veramente far vivere la città con tutti gli studenti che ci sono con i giovani, con le persone che vogliono socializzare in questi spazi veramente si può creare di tutto e quindi abbiamo dei progetti molto interessanti chiaramente finora non si poteva utilizzare a pieno adesso però in futuro credo che questo è uno spazio veramente che fa rivivere la città e invece il sindaco Alex Osca qual è il progetto e cosa volete realizzare? un progetto del quale vado fiero perché siamo riusciti ad acquisire con le risorse comunali in questo caso un'area di 25.000 metri quadri al centro di un borgo del nostro territorio che è veramente molto popoloso che non ha una struttura di centro del paese quindi questa struttura insieme all'Exacli che qui si vede nella foto appunto la demolizione di questa struttura che era un edificio per costruire capannoni industriali che ha fatto anche e qui ci tengo a dirlo questa struttura ha fatto la storia della nostra provincia perché chiaramente hanno costruito in questi spazi capannoni per tutti gli industriali per la nostra provincia e oltre per il nostro paese siamo riusciti ad acquisirla adesso c'è in atto un bando per i progetti quindi un concorso di idee attendiamo i risultati per poi definire dentro gli spazi come allestirli ma la piazza, il parcheggi, il verde l'Acli appunto come centro d'aggregazione quindi l'Exacli come punto di aggregazione quindi in quest'area veramente che fra l'altro è al centro della vallata del Metauro è molto utile come spazio per tutti i cittadini non solo quelli del comune di Urbino ovviamente ci hanno inviato alcune foto però non riusciamo a farle vedere direttamente che riguardano le marciapiede di Montesofio fatto poco tempo fa però male poi le mostreremo alcune foto non è meglio completare la superstrada da Canavaccio a Mercatale che fare la seconda canna della guinza? è utile farle entrambe io ho fiducia anche se l'avevo persa negli ultimi anni ho fiducia perché questo governo regionale sta spingendo insieme all'assessore Baldelli al presidente Acquaroli sta spingendo perché si realizzi la guinza e poi il lotto di Canavaccio è in previsione nella progettazione quindi sarà uno dei lotti dopo la guinza che verrà realizzati quindi per questo motivo credo e qui nasce il dubbio adesso ai cittadini di Canavaccio che Canavaccio se si realizza il lotto 10 probabilmente rimarrà senza traffico e chiaramente ci sono dei pensieri che vanno anche nella direzione dell'isolamento del quartiere quindi ecco chiaramente noi speriamo che si possa realizzare ma bisognerà pensare anche come ravvivare questa località e la Exosca è uno dei modi per poterlo realizzare chiaramente nei prossimi anni ci sono tanti altri interventi penso al risanamento di Via delle Mura ma anche a Mazzaferro che state mettendo in sicurezza appunto per la viabilità di pedoni e di autoveicoli possiamo vedere intanto le immagini che scorno altro intervento importante il teatro è finita la stagione però possiamo dire che per la prossima ci saranno delle belle sorprese per quando potrà riaprire sì sicuramente speriamo di riuscire a completarli velocemente sono lavori di riqualificazione di tutto il teatro efficientamente energetico ma io credo che sarebbe difficile in questi pochi minuti che abbiamo questa sera per spiegare le tante opere perché il marciapiede di Mazzaferro che non è un marciapiede un marciapiede che i cittadini mi chiedono da nove anni da quando sono sindaco siamo riusciti finalmente a fare l'accordo con Anas riuscire a avere i fondi che non sono PNR in questo caso il parcheggio di giro dei debitori con una nuova viabilità che stiamo progettando e abbiamo stiamo appaltando ma al centro storico i prossimi giorni annuncio che ci sarà una cosa che lei non ha che ci sarà dopo Pasqua la chiusura di via Raffaello perché vogliamo rifare la pavimentazione di un tratto l'ultimo tratto verso la piazza una parte davanti al municipio le scalette vicino al palazzo Ducale che sono partono i lavori dopo cioè adesso tante opere che sono messe in campo purtroppo come ho detto prima e avremo anche dei disagi perché quando si realizzano le opere sono inevitabili necessariamente dei disagi come per esempio questi giorni appunto la via dove c'è il mercato dove si realizza il mercato tutta la via che dovrà essere rifatto il manto stradale ci sono dei lavori per le condotte idriche quindi ci sono dei disagi purtroppo però io sconfido alla fine del mio mandato di aver completamente riqualificato il centro storico di Urbino e anche buona parte di tutti i nostri borghi e i nostri quartieri a proposito di mandato sindaco ancora non sappiamo se appunto con meno di 15.000 abitanti vi possa essere concesso un terzo mandato nel caso ma nel caso io lo valuterò perché se nel caso possa essere come chiaramente sperano tutte le come hanno dichiarato tutte le forze politiche e civiche che mi sostengono che io possa fare un altro mandato però ecco io penso che se anche non dovesse essere io sono contento del lavoro che ho fatto in questi anni perché veramente ci ho messo tutto l'impegno possibile chiaramente poi si può sempre fare meglio si può sempre fare di più ma assicuro tutti che io ci ho messo tutta la mia buona volontà con l'esperienza che ho personalmente e non è mancato un giorno del mio impegno come amministratore e non come sindaco mi chiamo amministratore della nostra città per chiudere sindaco per quanto riguarda il progetto di Urbino sito Unesco cioè un gruppo di lavoro c'è in campo per affrontare questo enorme progetto sì è un progetto che chiaramente ci vede impegnati per appunto l'ascolto con i cittadini la condivisione perché è ora di rifarlo è un obbligo dei siti Unesco l'assessore Cioppi ci sta lavorando assiduamente e tutti quanti noi ci teniamo molto per veramente mantenere questa definizione di patrimonio dell'umanità come dico sempre Urbino non è la città degli urbinati ma è la città di tutti i cittadini del mondo perché tutti quelli che arrivano nella nostra città si devono trovare a casa loro questo è l'auspicio che io faccio a tutti quelli che ci vengono a trovare nella nostra città Velocemente perché hanno chiamato le chiedono informazioni per quanto riguarda il terreno a comparto a Canavaccio destinato a residenza pubblica da 25 anni si paga l'Imu e ancora non si hanno notizie ci sono novità? sul terreno a comparto a Canavaccio questi sono i terreni che non si riescono i comparti che non si riescono a costruire molti cittadini chiedono di togliere dal piano perché ovviamente c'era quindi questi terreni che sono destinati a edificazione pagano l'Imu e le novità sono che dobbiamo fare le varianti che stiamo procedendo a fare e siamo nelle ultime varianti perché poi nella prossima legislatura chiunque sia sarà il caso di rifare il piano regolatore perché ormai sono passati 30 anni il prossimo anno e quindi è il caso di rimettere mano al piano regolatore riesco a leggere solo l'ultimo messaggio perché siamo in chiusura per Trasanni ci sono lavori in programma anche Marciapedi in particolare no Trasanni ci sono lavori in programma del K2 che abbiamo acquisito per demolire abbiamo avuto l'ok da Enel per spostare i cavi nei prossimi giorni abbiamo l'accettazione del progetto di spostare i cavi per poi procedere all'abbattimento e la costruzione della sala civica che anche qui come Canavaccio è un quartiere molto popoloso che ha bisogno di un centro del quartiere per poter essere vissuto dai cittadini non solo per andarsi a dormire però ecco io voglio dire ai cittadini come sanno benissimo che tutto il nostro territorio era stato costruito in questo modo a Schieti a Canavaccio a Pieve di Cagne a appunto a Trasanni a Mazzaferro dove prima abbiamo visto le immagini che abbiamo acquisito una casa di privati per poter realizzare meglio una piazza centrale un luogo una sala civica veramente per ridare la vivibilità in tutto il nostro territorio perché il nostro non è una città è una città diffusa che ha un territorio grandissimo e ci sono tante piccole città che sono Urbino ecco questo ci tengo a dire ho voluto dare a tutti i luoghi del nostro territorio compreso Paganico che molti non sanno neanche dov'è probabilmente Paganico è una località vicina a Lunano che è comune di Urbino ma io ho voluto mettere il cartello Paganico città di Urbino perché la città di Urbino è una città diffusa come a Canavaccio come a Schiede come a Piedicagna perché tutti i cittadini di tutto il territorio si devono sentire cittadini della nostra città e del nostro comune questa è la cosa che ci tenevo a fare e l'abbiamo fatta Sindaco siamo in chiusura grazie per essere stato nostro ospite e speriamo di rivederci nei nostri studi molto presto e buon lavoro grazie grazie a voi e buona serata a tutti un ringraziamento anche alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra l'appuntamento per domani mattina alle 7 con la nostra Rassegna Stampa buona serata grazie a tutti